Il conto di Amaci Casa Italia, ci troviamo oggi alla nuova casa a Roma, alla fiera dell'arrendamento, e siamo nello stand di Marcucci Arrendamento. La cucina City che già conosciamo, perché l'abbiamo già vista, è presentata allo stand della scorsa Cucine, alla fiera del mobile di Milano. Viene qui presentata la cucina City con il color Rovere Sabbia, è una cucina simpatica, elegante e molto piaciuta nelle soluzioni che sono state presentate a Milano e oggi questa qua è la soluzione pratica per il pericolo. Grazie sempre per la disponibilità con cui sentite i nostri video, con cui seguite i nostri video e arrivederci a tutti.